Ciao a tutti, io come sempre immutabilmente sono Vlad Sparo e so cose. Recentemente mi avete fatto capire che avete gradito una serie di video dove provo alcune armi che non necessariamente magari hanno una storia particolare o meritano un video un po' più lungo come faccio solitamente. A tal proposito ho deciso di portarvi la Beretta 96, ovvero la Beretta della serie 90, in calibro 40 Smith & Wesson. Non affronteremo quindi oggi in questo video la storia della serie 90, ma sicuramente quello che voglio fare è parlarvi un attimo del calibro, perché nel 40 Smith & Wesson sul mio canale se ne è parlato parecchio. Io lo chiamo il calibro maledetto, non sono affatto un grande fan di questa munizione. È un calibro che nacque negli Stati Uniti su esigenza dell'FBI, ma di fatto andando a ridurre la dimensione del bossolo e la carica di un altro calibro molto interessante che è il 10 mm. L'idea dell'FBI era di trovare potremmo dire un calibro perfetto per esigenze di combattimento, di tirare giù bersagli, ma chiunque capisca un pochino di balistica, soprattutto terminale, sa benissimo che non esiste una cosa come il potere d'arresto e la cosa migliore da fare, soprattutto quando ci si addestra al combattimento con le armi da fuoco, è partire dal presupposto che le proprie munizioni non hanno alcun effetto sul bersaglio e agire di conseguenza. In questo senso il piazzamento dei colpi è molto più importante, ma di questo altre cose abbiamo parlato abbondantemente. Per esempio, se volete approfondire il tema, vi consiglio di cliccare in alto a destra, ritroverete un'interessantissima live, una lezione fatta col professor Marco Bognardi del Politecnico di Milano. Il professore, un esperto di balistica, parla anche di queste cose. Il 40 Smith & Wesson ha poca capacità per creare un caricatore normale della Beretta, che normalmente ha 15 colpi, qui in questo caso ne ha soltanto 10. È marginalmente più potente del 9. L'idea era di fare una munizione potente come il 45 e capiente come il 9, e abbiamo una munizione potente come il 9 e il capiente come il 45, quindi sta accadendo sempre più in disuso, sta morendo, nonostante anche ultimamente è uscito un articolo su armi e tiro che non è morto. E non è morto solo esclusivamente perché questo calibro vi permette di abusare di alcune regole in sport di tiro dinamico che riguardano il power factor. Non ci fosse il power factor sarebbe morto e sepolto da un sacco di tempo, ma ehi! Sapete una cosa? Spariamo un caricatore e innanzitutto vediamo come va. Tra l'altro oggi ho dei bersagli interessantissimi di un'azienda che si chiama ProApto, molto 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 belli. Vediamo, in questo momento ho una sagoma a circa 25 metri, inseriamo il caricatore, andiamo ad armare l'arma, che già mi si è inceppata, fantastico! Ok, proviamo! Ok, che dire? Un po' più forte del 9, senza i classici vantaggi del 9. Ovviamente la beretta rimane la beretta. In realtà più passa il tempo, io sono un nato che amavo profondamente la serie 90. Le ancora l'apprezzo profondamente per tutta una serie di questioni ergonomiche, ma più invecchio più mi sto allontanando. La pistola in sé è relativamente docile, è ben controllabile, gli organi di mira sono alti e molto ben visibili. Ma appunto rimane questa cosa, che hai soltanto una capacità 10 colpi. Ma va bene, questa è la versione Centurion, quindi è già un pochino più piccola, ma è poco più piccola, un po' più corta la canna. Per il resto, personalmente non vedo un grosso vantaggio nell'avere questo calibro. È una scelta, come abbiamo detto, abbastanza specifica. C'è chi piace, c'è chi non piace. Ma se la stessa FBI ci ha rinunciato per passare al 9mm, alle Glock 9mm, e se queste pistole non costano niente perché nessuno le vuole, un motivo ci sta. Spostiamo la telecamera, proviamola ancora. Andiamo a vedere il bersaglio. E vediamo cosa abbiamo fatto. Prima che dite qualunque cosa su questo bersaglio che sto utilizzando, ci sta un mito che circola in Italia che non si possono usare questo tipo di bersagli. È un mito e se avete da dissentire con me, fatemi vedere dove sta scritto. Troverete esattamente zero, anche perché questa azienda vende senza problemi questi bersagli perché sono perfettamente legati. Ma lasciando stare, abbiamo su 20 colpi sparati, tranne uno clamorosamente mancato, 19 colpi sul bersaglio. Qui Pierigoji non si sentirebbe molto bene, anche se devo dire che ho l'impressione che l'arma batta abbastanza bassa. Io tendenzialmente miravo, potremmo dire, per quanto riguarda l'elevazione su questa linea, come del resto sono abbastanza solito fare. Potrebbe essere una questione della mia tecnica, come potrebbe benissimo essere una questione di semplicemente regolare gli organi di mira. Come vedete, da 20 metri mancare un bersaglio mano è relativamente difficile, a parte, ripeto, la clamorosa mancata. E ricarichiamo, cerchiamo di sparare a questo bersaglio, magari da una distanza un pochino più corta, ma più veloce. E vediamo come va. Ok, abbiamo ora un bersaglio più anatomico, anche questo della ProApto, che ci aiuta un pochino a capire anche le zone vitali, fondamentali per un utilizzo di difesa. Ripeto, il piazzamento dei colpi è veramente tutto. Non è che i calibri sono magici e il 40 sia particolarmente più efficace del 9 mm nel fare questa cosa. Vediamo, tirando un po' più rapidamente, che cosa possiamo fare. Siamo a esattamente 10 metri in questo momento dal bersaglio. Di nuovo, caricatore, possiamo andare a scarrellare e vediamo. Beh, mancare da questa distanza è abbastanza difficile. Ovviamente siamo in una situazione non di stress con un bersaglio fisso e con tutta la galma del poligono, ma ecco, onestamente qualunque calibro da questa distanza riuscirebbe a prendere. Come ultimo esercizio per la giornata vorrei provare il cosiddetto mozambico, ovvero gli spariamo due colpi al torace e un colpo in testa. Solitamente il mozambico viene eseguito da cortissima distanza, quindi in questo momento ci stiamo messi a 5 metri. Certo, i colpi sono pari, ma fa niente. Inseriamo il caricatore, l'arma è pronta all'uso e vediamo. In realtà il terzo lo so bene io che l'ho mancato. I primi due che ho visti abbastanza nettamente entrare nella testa del bersaglio sono andati abbastanza bene. Per chi mi conosce, per chi mi ha imparato a conoscere sia di persona sia su questo canale, le mie conclusioni sono abbastanza ovvie. Nel senso che il 40 Smith & Wesson è una munizione che costa più del 9 mm, è meno capiente del 9 mm e francamente non fa niente oltre al 9 mm. Se ne avete esigenza soprattutto per abusare di regole del tiro dinamico, o siccome le armi in 40 sono economiche perché nessuno le vuole, avete esigenza di un'arma molto economica perché vi serve per domani, per esempio per fare un lavoro da GPG, compratelo. Non è che è un calibro che non funziona, come vedete, ma sia qui Pierigocin sia questo bersaglio anatomico confermano che in realtà l'arma e il calibro funzionano perfettamente. Un'ultima notola finale riguardante la Beretta 96 in sé, o meglio la mia esperienza e l'esperienza di altre persone. Per quanto ci piace lo dare la Beretta, la Beretta come tutte le aziende del mondo non sempre fanno le cose perfettamente. E i blocchi di chiusura della serie 90 sono parti relativamente fragili. Ne abbiamo un po' parlato come ci fu tutto un scandalo negli Stati Uniti con l'aduzione dell'M9 perché si spaccavano i blocchi di chiusura e Beretta stessa nel corso degli anni le ha cambiati. Personalmente l'80-90% delle Berette serie 90 che ho visto col blocco di chiusura spaccato o col carrello crepato erano un 96. Onestamente il 40 Smith & Wesson per quanto riguarda energie e pressioni spinge davvero quest'arma al limite. Quindi questo lo voglio assolutamente sottolineare. Levata questa questione della potenziale mancanza di affidabilità delle parti, della potenziale rottura delle parti, l'arma in realtà si è presentata in questo momento a noi affidabile, comoda, facile da gestire. Il greletto a doppiazione Beretta è il greletto a doppiazione Beretta. Bisogna un po' farci l'abitudine, soprattutto se si viene da altri sistemi d'arma, ma è del tutto funzionale e consono l'utilizzo. Gli organi di mira funzionano bene. Come vedete tirare anche intuitivamente un po' più veloce è abbastanza facile, anche se non sempre con il risultato scontato, però si può... fa quello che deve fare. Fa quello che deve fare, su questo non ci piove. E voi avete una Beretta 96? Che cosa ne pensate? Fatemelo sapere nei commenti. Io intanto vi ringrazio per la visione di questo video. Voglio ringraziare innanzitutto persone come voi, come proprietario di quest'arma che oggi me l'ha portata per farmela provare. Senza di voi questo canale non esisterebbe, perché come vedete ci sono due o tre armi diverse ogni settimana e non sono mie, per la maggior parte onestamente, perché sarebbe impossibile avere tutte queste armi, soprattutto pecuniariamente parlando. Ringrazio tantissimo la ProApto, questa fantastica azienda che produce bersagli molto realistici, bersagli ottimi per un'esercitazione didattica, soprattutto mirata alla difesa e alla sicurezza, ma produce anche cose come camuffamenti uniformi e queste cose qua. Ne parleremo più avanti di loro, perché quello che fanno, sotto l'aspetto anche neuroscientifico, perché c'è tutto uno studio dietro questi bersagli, è estremamente interessante. Se volete contribuire al canale attivamente, banalmente per acquistare le munizioni per quest'arma, considerate abbonarvi al canale. Aiuta immensamente e se andate a sparare, saprete benissimo che fare queste cose non è affatto gratuito. Se non volete o non potete, considerate almeno condividere questo video, lasciare un like e un commento. Le armi non piacciono a YouTube e alimentare l'algoritmo, ovvero quell'intelligenza artificiale, che decide quale video viene visto e quale no, è fondamentale. L'algoritmo vede tantissimo i commenti e i like per promuovere un video. Quindi spaccatelo e quel pulsante del pollice in su. Io per oggi vi ringrazio, come sempre, ci vediamo alla prossima.